Candaldese ha fatto buonissime cose, è una buonissima squadra, gioca anche loro un buon calcio, hanno buoni giocatori tecnici, uno è stato il mio giocatore per un paio di campionati che è Vitolo e ho visto che quando facevano girare la padra, la facevano girare con contenuti seri e molto bene. Però credo che di grandi occasioni non ne hanno avute, mentre noi ne abbiamo avute tantissime, non solo nel secondo tempo ma anche nel primo, nel primo ha fatto una grandissima parata su tiro di russo, mi sembra, il portiere loro e anche nel primo tempo abbiamo sbagliato qualche ultimo passaggio in parità numerica, cosa che quando sbagli questi passaggi è proprio perché sei precipitoso nel fare le cose, come quando sbagli dei gol, come sono capitati a noi, è sempre dovuto a questa insicurezza che abbiamo, ma questo l'abbiamo fatto anche nelle partite scorse, anche nelle partite scorse abbiamo avuto occasioni importanti che non abbiamo sfruttato.